Che qualsiasi cosa accada nella tua vita o nella mia Io comunque ti starò sempre vicino, sarò sempre con te, io ci sarò Eccolo, il senso profondo ultimo di questo comandamento Non tradire chi hai detto di amare, non violare il legame che ci unisce È un comandamento che si rivolge all'uomo, però è dedicato alla donna E hanno fatto un commento, il commento forse più bello a questo comandamento Lo hanno scritto in un grande libro antico che si chiama Talmud E lo hanno scritto con parole così belle che ve le leggo perché non le voglio sbagliare Afferrate State molto attenti a far piangere una donna Perché Dio conta le sue lacrime La donna è uscita dalla costola dell'uomo Non dei piedi perché dovesse essere calpestata Né dalla testa per essere superiore Ma dal fianco per essere uguale Un po' più in basso del braccio per essere protetta Dal lato del cuore per essere amata